Il primo viaggio di prova della linea 3 della tramvia di Firenze si è svolto nel tratto Piazza Dalmazia, Piazza Leopoldo e Ritorno. Tanti curiosi che hanno osservato increduli il convoglio dal bordo strada. Anche il sindaco della città metropolitana di Firenze Dario Nardella ha partecipato assieme ai tecnici alla prova su rotaia della futura linea 3 che, una volta dell'esercizio, andrà da Careggia alla stazione di Santa Maria Novella. Siamo in questo momento sul secondo tratto della linea 3 dove si concentreranno in questi giorni le attività di prova. Si tratta del passaggio da Piazza Dalmazia a Piazza Leopoldo, un passaggio importante con delle salite, delle discese. Finora le procedure stanno andando bene, ingegneri e tecnici sono al lavoro. È una fase delicata anche perché attraversa molti incroci e si tratta di un passaggio nuovo per tanti pedoni automobilisti. Avremo un po' di disagi legati proprio a queste prove anche sia la presenza di vigili urbani e massiccia con l'obiettivo di favorire la fluidificazione del traffico e allo stesso tempo le prove del tram. La cosa importante è che comunque siamo ormai alle battute finali. Le ditte confermano il rispetto dei tempi che ci consentiranno di salire il 30 di giugno sul tram da Careggi a Santa Maria Novella.